Urgente! A Milano, nessuno se lo aspettava. Guardate, tifosi, questa notizia ha sorpreso tutti, come sempre. Non dimenticate di mettere mi piace a questo video e di iscrivervi al nostro canale di notizie. Oggi abbiamo una notizia fresca fresca dalla Gazzetta dello Sport di questa mattina, che ha riportato l'interesse del Milan per Cristian Mosquera dell'Atletico Madrid. Il Milan si contenderà con l'Atletico Madrid il difensore del Valencia Cristian Mosquera, che è stato uno dei protagonisti di questa stagione nella Liga. Secondo la testata spagnola Cope, il 19enne difensore sta suscitando l'interesse di tutta Europa e potrebbe essere il prossimo grande acquisto del Valencia. In effetti, il Milan ha provato a ingaggiare Mosquera la scorsa estate, ma non ci è riuscito, e sicuramente costerà di più ora che ha una stagione di successo all'attivo. Il Milan è stato legato a lui per diversi anni. Il nome di Mosquera è stato discusso quando il Milan stava concludendo l'affare per Junus Musa dalla squadra spagnola. Il suo contratto è stato prolungato automaticamente fino al 2026 in questa stagione a causa del numero di partite giocate che ha fatto scattare una clausola. In questa stagione ha giocato 38 partite ed è la stella del Valencia. Si dice che Mosquera sia molto felice al momento al Valencia e che difficilmente cercherà di forzare la sua uscita. Ma il Valencia non è un club ricco e l'opportunità di incassare un giocatore come Mosquera potrebbe essere troppo. Ghiotta per essere ignorata. Lo spagnolo è un prodotto dell'Accademia del Valencia e ha trascorso tutta la sua carriera lì, il che significa che sarebbe un addio emozionante. Commentate qui sotto, tifosi. Cosa ne pensate? Lasciate le vostre opinioni qui sotto e rimanete sintonizzati sul nostro canale di notizie, perché torneremo presto con tutte le ultime notizie sul Milan. Fino alla prossima volta, forza Milan sempre! Grazie a tutti!